Manca esattamente un mese al nostro appuntamento, al nostro raduno dei giovani dell'Italia dei Valori a Bellaria in provincia di Rimini. Nel frattempo c'è grande efervescenza, c'è grande efervescenza online attraverso il forum che abbiamo lanciato, forum di discussione molto ricco, molto articolato e molto vivace sui temi della legalità, sui temi dell'informazione e sui temi dell'accesso. Vi stanno partecipando davvero centinaia e centinaia di ragazzi e ragazze che evidentemente hanno riscoperto il gusto della discussione democratica, il gusto del confrontarsi su questi temi che in questo momento rappresentano anche nel dibattito parlamentare dei temi di grande attualità e di grande pertinenza. I lavori del Parlamento in queste ultime settimane sono stati caratterizzati proprio da discussioni che riguardano la legalità intesa in modo complessivo, quella italiana, ma anche il nostro ancoraggio in Europa, riguarda le sorti di Rete4, la gravissima vicenda del golpe del governo di Berlusconi sulle intercettazioni e non ultimo la vicenda all'Italia. Ecco perché il nostro forum è così partecipato proprio perché dà l'occasione alle persone di confrontarsi su questi temi. Tante persone già si sono registrate anche per venire a Bellaria perché davvero oltre alla discussione online il nostro vuole essere un partito di persone in carne ed ossa e quindi ci vogliamo ritrovare lì tutti insieme in questa grande occasione, grande festa per vederci, confrontarci e magari progettare qualche cosa insieme per questo partito dell'Italia dei Valori, ma in realtà per questa società che sembra bloccato e che vuole ripartire proprio dai giovani.